Salve a tutti ragazzi! Prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like. Sigla! ... 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 bene bene pensavo non ci fossero superstiti devi avere la pellacciatura chi cazzo sei tu un forestiero anche meglio a madre miranda piacerai ma stagione ci siamo quasi Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo, e le mie figlie amano così tanto intrattenersi con i vestiti. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di lui, io e i miei figli e il dottor Tullerino, e vi otterremo il suo privato sacco. Quindi... Sveglio! Quindi... Chiudete quella bocca! Cosa? Vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo, e creerò uno spettacolo che piacerà a tu. Oh, che ridicolo. A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in noi. Sì, come no? E poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma... ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranta, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino, e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me, e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna! E per una volta impara a perdere! Cercati la cena da un'altra parte! Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero con il mio figlio. Ah, cresci ancora, e la tua testa forse conterrà il tuo ego! Sempre, sempre, sempre! Eh, la mia opinione non conta! Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che basta sempre. Ethan Winters. Preparati. No! Aspetta! Inizia lo spettacolo! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Si vai! Sena! Cresto santo! Bravo! Scappa se vuoi salvare! Molto bene, Ethan! Eh, 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 eh! Sei ancora vivo? Complimenti. Merda! Merda! Ma allora? Sei davvero forte come dicono. Oh! Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire Donna e Moro! È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale! Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? Ahahahahahah! Per un pelo! Quei mostri hanno rapito Rose. Ma? Ma... Grazie a tutti. Oh 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 andiamo 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 ti attendevo con ansia signor winters come sai il mio nome beh ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta l'eroe in cerca della propria figlia devo ammettere che il castello d'esta non pochi sospetti già non è l'unico io sono solo un umile mercante qui devi perdonarmi puoi chiamarmi il duca parliamo d'affari armi, munizioni, unguenti curativi tutto quello che desideri qui puoi trovarlo certamente ho qui un regalo proprio per te Ethan che regalo è scusa 10.000 non è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prendiamo questo. Chi è stuposo? Chi è stuposo? Chi è stuposo? Certamente. Chi è stuposo? 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. È un bambino in nulla... C'è quello che viso la Salvare? C'è la sua via? Sì, c'è la sua neppia. Non è più ninti, se non è mai tanto. Si, c'è il mio. Bisogna inserire una sfera. Bisogna inserire una sfera. Bisogna inserire una sfera. Bisogna inserire una sfera. Stai forse cercando Rose? Si Che cos'è? Oh Una, due Ciao ragazze Ninja No Sangue tua Madri, ho catturato una preda per te Siete così premurose figlie mie Ah, della bacca E così sei scampato ai giochetti di quell'idiotta di me Vediamo che cos'hai di tanto ospicio Quella soffresa Minchia, è quatteggiata adesso Forse è un po' stagione Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo Ma sono stata io a catturarlo Calma, calma ragazzi Prima devo informare madre Miran Minchia Vedrete che ce ne sono Beato per le donne Tiratelo su Ehi, aspettate Ehi, ehi Fermi Mettetemi giù Potresti pentirti di quello che c'è Mi danno il passo Lassatevi andare Ehi, tu Mi danno Mi danno Devo uscire da qui Prima che tornino Parle dette psicopatiche Calice rosso Un pepe stitino Quida Pagga Oh, da qua il raccorto delle panciuglie andiamo 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 ehi su di ci e allora qua che c'è? che niente andiamo con 8 rossi oh dove siamo? no? qui non c'è? non c'è non c'è non c'è che c'è ah stanzi prima andiamo 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 dove hanno portato rose ragazzi si anello con occhio rosso e la forma è un altro e la forma è un altro dove c'è da guadagnare e dimmi hai trovato tua figlia no se rose si trovasse davvero qui è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private dove entravi? dimitrescu si proprio lei perché non dai un'occhiata magari hai fortuna e a tal proposito guarda il mio inventario non orvi 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 certamente e orvi 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 o orvi 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 Questa è la bella di 10.000 Che vuoi comprare? Non vedo l'ora di scoprire i frutti delle tue scorribande Le tue scorribande Non vedo l'ora di scoprire